ciao a tutti ragazzi sono gt tv e benvenuti in questo nuovo video dove come vedete al titolo vi farò vedere questo nuovissimo glitch da fare in solo quindi come vedete dovrete strutturare il vostro garage del nightclub in questo modo quindi una lg rh8 in questo slot e l'auto da duplicare nel primo slot che io duplicherò una ic classic quindi ragazzi per prima cosa dovrete appunto entrare nelle crew in una delle crew che vi lascio nella descrizione mi raccomando le trovate nella descrizione in una a caso se sono piene ragazzi semplicemente aspettate e dopo di che dovrete avere la disposizione del garage così quindi pieno di rh8 tranne in questo slot che sto indicando con la ic in cubo quindi oppure un'auto che volete duplicare quindi a quel punto l'auto dove io avevo la lg rh8 gialla semplicemente la prendete uscite fuori dal night e vi dirigete appunto da lsc ci mettete il simbolo della crew che dovrà essere non una di quelle crew che trovate nella descrizione ma una crew a caso che abbia appunto il simbolo crew quindi una crew vostra e a quel punto ragazzi semplicemente con quest'auto dopo che gli avete applicato il simbolo crew vostro quindi non di quelle in descrizione la rimettete a posto adesso ragazzi semplicemente andate qui quindi andate nella selezione delle auto dove le potete scambiare e adesso ragazzi o da smartphone o da pc semplicemente andate sul social club e rendete la crew dove siete entrati quindi una di quelle in descrizione come attive quindi mi raccomando lo dovete fare dal computer o dal telefono e se tutto riesce bene ragazzi quando sarete su questa schermata e l'avrete fatto quindi l'avrete resa come attiva una di quelle in descrizione il vostro appunto la vostra sessione scadrà ragazzi come vedete mi caccerà dalla sessione perché mi dice che ho cambiato crew durante appunto l'accesso a gta adesso ragazzi passo la mano a crazy trovate il suo canale nella descrizione che mi ha aiutato a finire questo glitch come vedete ragazzi tornando all'interno del nightclub quindi nel garage ci sarà uno slot vuoto io vi consiglio ragazzi quando spawnerete nel nightclub di fare il giro da dentro quindi senza uscire per evitare di incasinare il glitch quindi come vedete ci sta uno slot vuoto e lui quando lo va a sostituire ragazzi vuol dire semplicemente che vi è riuscito il glitch quindi la LGRH8 è buggata non fate caso che quella gialla c'è ancora perché lui ha utilizzato un'altra LGRH8 mi pare avesse utilizzato una bianca io avevo utilizzato una gialla giustamente i video sono differenti quindi insomma non ci fate caso l'importante è che abbiate uno slot vuoto quindi completamente vuoto che venga indicato come una LGRH8 qui ragazzi voi non lo scambiate ragazzi non lo scambiate per nessun motivo lui l'ha fatto per farvi vedere ma voi non serve che lo fate quindi dove lui ha la LGRH8 gialla voi avrete uno slot vuoto e poi dovrete avere l'IC classic qui quindi l'auto da duplicare esattamente lì dove ce l'ha lui quindi adesso ragazzi per continuare passaggio importantissimo andate in un livello qualsiasi io vi consiglio il livello 3 e adesso ragazzi dovrete andare sulla selezione dei livelli e selezionare il numero 2 quando lo selezionate ragazzi ci dovrete andare sopra e dovrete premere sia su Xbox che su PS4 opzioni ed X insieme quindi opzioni vale sia per PS4 che per Xbox X è il tasto di selezione quindi il tasto di selezione è normalissimo lo dovrete fare velocissimamente quindi vedete premo opzioni ed X insieme quindi opzioni ed X insieme guardate cosa succede ragazzi appena premo opzioni ed X insieme mi esce la schermata nera con il menu in sottofondo voi velocissimamente dovrete andare su attività via attività create da Rockstar e dovrete avviare un lavoro da titano quindi mi raccomando capite che vi è riuscita questa parte se appunto nel sottofondo avete lo sfondo nero quindi non vi fa spawnare all'interno del garage in caso contrario ragazzi vuol dire che siete stati troppo lenti quindi come vedete in questo caso è riuscito adesso ragazzi dovrete semplicemente quittare dalla missione e se spawnerete nel garage B2 senza minimappa vuol dire che il glitch vi è riuscito quindi come vedete spawner nel garage B2 senza minimappa mi giro seleziono un garage che non sia né il primo né quello del Terrorbyte quindi seleziono il 4 ci premo sopra non succederà nulla e adesso ragazzi posso andare a duplicare la prima auto senza problemi quindi vado sul pallino blu e la scambio con la LG RH8 non succederà nulla e vuol dire che sta riuscendo tutto quanto alla perfezione fidatevi ragazzi non è così difficile quella parte semplicemente ci dovrete prendere la mano quindi se non riuscite qualcosa scrivetelo nei commenti vi ricordo ragazzi di lasciare un mi piace perché è importantissimo e di entrare nel gruppo nel canale Telegram per rimanere aggiornati sui video oppure per parlare con me quindi ragazzi una volta che avete scambiato le auto prendete l'auto che volete duplicare uscite fuori con quest'auto come ho fatto io e richiedete il centro operativo mobile quindi una volta che avete richiesto il centro operativo mobile ce la mettete dentro il com potrà essere sia vuoto che pieno è indifferente e una volta che ce l'avete messa dentro ragazzi dovrete semplicemente rientrarci e rimetterla all'interno del night adesso quest'auto la potrete mettere o nel garage da dove l'avete presa oppure la rimettete in un altro garage io vi consiglio di fare come fa lui ovvero la mettete in un altro garage e chi se ne frega quindi vedete lui l'ha messa nel numero 3 quindi questa qua è la prima copia che va inserita nel garage numero 3 ovviamente l'originale sarà all'interno ancora del numero 2 non vi preoccupate ragazzi se durante il glitch vi scompaiono le auto dal garage basta cambiare sessione e torna tutto normale per continuare con il glitch tornate nel garage B3 andate nella selezione dei garage selezionate il livello 2 premete opzioni ed X insieme nuovamente se vi fa questa schermata vuol dire che è riuscito andate su online avvia attività create la roxar missioni un lavoro da titano se in questo sottofondo qua che vedete nero non vi esce il garage vuol dire che vi è riuscito alla perfezione il glitch però capite che vi è riuscito proprio al 100% se la minimappa non vi compare quando respawnate potrebbe essere una cosa rognosa questa parte ma fidatevi non è tanto difficile quindi una volta arrivati all'interno della lobby semplicemente quittate vi girate e selezionate il garage il livello 4 ci premete sopra non succederà nulla adesso ragazzi semplicemente riscambiate le auto nuovamente salite sulla IC classic e le andate a riduplicare un'altra volta quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale ed attivate la campanella e le notifiche vi ricordo di lasciare un mi piace se qualcosa non vi è chiaro cercate nei commenti perché sicuramente io cerco di rispondere a tutti quindi sicuramente qualcuno non avrà capito qualche parte quindi o entrate nel gruppo Telegram e lo chiedete là che sicuro qualcuno vi risponde oppure lo chiedete nei commenti oppure lo cercate tra i commenti comunque ragazzi quando il glitch sarà patchato quindi non funzionerà più lo scriverò nel commento bloccato in alto quindi da funzionante ci sarà scritto patchato le attività ragazzi le crew scusate le trovate tutte quante in descrizione quindi se ne trovate una piena provate l'altra e provate l'altra e provate l'altra questa qua che ho fatto io ne aveva 700 di membri quindi dovrebbe essere insomma la vostra portata qui ragazzi detto questo iscrivetevi al canale attivate la campanella mi raccomando importantissimo vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video